Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4 potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre se volete potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games or Cover The Gamer 12 scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games e stende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti Orchetti, sono Orcuverde. In questo video volevo informarvi che Epic Games ha rilasciato il secondo teaser della season 8. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollicione in su bomba e seguirmi sui social. Pagina Facebook, Instagram e canale Telegram e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Se in questo momento vi recate sulle notizie nella modalità battaglia reale di Fortnite ci sarà scritto Presto disponibile stagione 8 e sotto qualcosa scintilla nella grotta profonda ma attenti a coloro che arrivano sull'onda. Tre giorni alla stagione 8 e nell'immagine è presente un serpente. E attenzione in quanto Donald Mustard, ovvero il direttore di Epic Games, sul proprio account Twitter, Poco fa sul proprio account Twitter ha pubblicato questo post con un disegno di un uovo menzionando il post pubblicato dal team di Fortnite riguardo il secondo teaser. Il che secondo me trattasi di una conferma che le uova a picco polare sono di questo serpente. E non è finita ragazzi in quanto unendo le due immagini dei due teaser della season 8 viene fuori questa immagine che secondo alcuni dataminer potrebbe indicare un teschio quando verranno rilasciate le altre due immagini del terzo e quarto teaser della season 8 domani e dopo domani. Questo lo scopriremo presto! E niente ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate voi riguardo questo secondo teaser nei commenti sotto questo video. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link nei miei social nella descrizione e da Orcoverde tutto ci vediamo ad un prossimo video. Bella!